Io ripeto, i miei 65 anni nel settore sono stati 65 anni votati alla ricerca del buon costruire. Non è una frase fatta. Ogni anno ho presentato delle novità più che interessanti. Fra poco presenteremo l'ennesima novità. È un mini calcestruzzo particolare con delle resistenze mai raggiunte finora a livello internazionale. Abbiamo raggiunto la classe 14G che è la classe che ci consente di fare dei calcestruzzi strutturali eliminando l'impiego del ferro tradizionale. Un calcestruzzo ad altissima durabilità, un calcestruzzo totalmente impermeabile sia all'acqua che al vapore. Un calcestruzzo per le prove che abbiamo potuto sostenere a livello di costi ci permette di garantire una durabilità di vita di 300 anni. Ci siamo fermati a 300 anni per questioni problematiche economiche, perché le prove costano, ma i 300 anni penso che siano più che sufficienti per considerarlo estremamente ecologico. Quindi ho voluto affrontare da sempre il problema dell'ecologia e dell'ambiente non pensando al recupero degli smaltimenti, delle demolizioni, ma pensando a non demolire. Se non demolisco non ho problema di smaltire il demolito.